buongiorno buongiorno a tutti benvenuti sul canale mi raccomando iscrivetevi specialmente se siete tifosi della fiorentina fate iscrivere tutti i tifosi della fiorentina che conoscete seguitemi sui social instagram e twitter twitter specialmente perché quando commento le partite lo faccio anche live su twitter attivate il campanaccio perché poi ovviamente stasera commenterò con un video il post lecce fiorentina dovevo fare un video sul calciomercato anche delle altre squadre gli altri nomi non ce l'ho fatta teniamo tutte le varie trattative osimè nemerson feccanieri cantè tutto quel discorso per la prossima live che farò sul canale quindi le discutiamo dal vivo facciamo una live di calciomercato discutendo anche del mercato delle altre squadre allora partiamo dal dai discorsi dei recap di mercato allenatore poi faccio il mio commento a lecce fiorentina di stasera c'è questa voce yuric che sta impazzando sul web si dice che pradè e barone abbiano scelto yuric come nuovo allenatore ma io sono un po sono un po combattuto da sto punto di vista nel senso che sapete che a me yuric piace molto mi andrebbe anche bene qualora dovesse diventare il nuovo allenatore della fiorentina specie per un discorso tattico cioè a me yuric andrebbe benissimo ma il problema è che come vi ho detto qualche giorno fa da un lato senti queste cose rilanciati dai media ruotanti attorno alla fiorentina dall'altro senti che yuric sta rinnovando col verona quindi non so se la fiorentina sta cercando di insinuarsi nel rinnovo che yuric starebbe facendo cercando di convincerlo magari con un'offerta migliore non lo so poi c'è la questione spalletti che lo si vede a cene in giro che c'è sempre sta presenza che ruota attorno alla fiorentina che pure quella per certi versi sarebbe una scelta buona ma non si sa poi se sia una scelta reale se sia vero quindi anche a livello di allenatore c'è abbastanza confusione c'è abbastanza confusione io vi dico in tutta onestà che a mio avviso yuric può essere tentato dal far un altro anno a verona perché comunque è un allenatore che negli ultimi anni ha avuto spesso dei cambi anche non voluti di panchina è stato mandato via ha dovuto cambiare adesso a verona ha trovato un attimo di stabilità e di apprezzamento e non so se sia facile convincerlo nel venire via vediamo cosa succede vi ripeto a me fa strano che da un lato si parla della scelta di pradè barone che sarebbe già stata fatta dall'altro si parla di rinnovo col verona vediamo quale sarà l'andazzo nel caso vi ripeto a me yuric comunque piacerebbe soprattutto per un discorso tattico ok poi pulgar ci sono ste voci di cessione di pulgar specialmente verso siviglia allora è un giocatore che quest'anno ha avuto un rendimento sufficiente un rendimento sufficiente diciamo che non ha fatto il salto di qualità che molti si aspettavano però un giocatore di cui apprezzo la duttilità nel senso che uno che può fare il mediano ti è utile in tutte e due le fasi può avere anche doti di impostazione ma è uno che aggiunge anche muscoli alla mediana nella mia fiorentina ideale dell'anno prossimo sarebbe la prima riserva di quel famoso centrocampo a 3 lineare o a 21 capito sarebbe il quarto titolare del centrocampo della fiorentina è un giocatore che confermerei è un giocatore che confermerei anche perché stando un altro anno a firenze potrebbe effettivamente avere magari quella confidenza quella quella resa quel quel rendere bene che quest'anno non è che abbia mai avuto non è che lo reputi un fenomeno un giocatore di chissà quale levatura per carità però non lo cederei ecco onestamente non è uno di quelli che cederei ecco non è uno di quelli che cederei e se dovesse andare a siviglia bisogna vedere per quanti soldi se lui ci vuole andare se è una cosa reale però vi dico dalla mia non lo cederei non lo cederei c'è un altro giocatore delle giovanili della roma stocca la fiore sul quale ci sarebbe l'interesse della fiorentina vediamo io penso che ripeto di giovani ne abbiamo anche anche troppi noi da valorizzare da far rendere pensi vari sottil penso stessi castrovilli blauvic penso a venuti penso a terzi ci penso a un ranieri che comunque ti ritornerà a casa quindi andare a prendere anche altri giovani da fuori non è questo di cui avremo bisogno noi vi ripeto per l'ennesima volta la squadra la rosa non è male la rosa i suoi valori ce li ha a fine anno qualsiasi sia la posizione di classifica che ricoprirai ovviamente serie b esclusa facendo le corna non devi fare una rivoluzione è una rosa solamente che va puntellata con due tre ruoli accessione di chiesa data per scontata un esterno sinistro un buon centrocampista e se vuoi un difensore giovane al netto delle cessioni che pure magari ci saranno discorso milenkovich blauvic verso il milan con paquetà in arrivo alla fiorentina vi ripeto non è una cosa che non farei è una cosa che non farei perché mi terrei tutti e due i giocatori non è non è pensabile di vendere blauvic dopo cinque mesi che ha giocato sarei anche curioso di vedere a quale cifra lo venderesti perché è facile chiedere ad oggi 40 milioni per blauvic come leggo in giro più difficile riceverli perché voglio dire a meno che non trovi la società munifica che te li esce così ma dubito specie se parliamo di milan e milenkovich ragazzi io vi ripeto è un giocatore su cui anche si testa il salto di qualità che tu dovresti fare perché se dopo il primo anno tu effettivamente hai intenzione di costruire una fiorentina che guardi all'europa con una certa credibilità cioè con l'obiettivo di arrivarci con delle buone probabilità io penso che milenkovich sia un giocatore convincibile potrebbe essere un po il nostro banco di prova stile lautaro all'inter nel senso dice a milenkovich guarda sto anno a partire dall'allenatore dal progetto magari anche dalla dirigenza con due tre puntelli di livello in squadra all'europa ce la giochiamo e vogliamo che tu sia protagonista magari anche con un rinnovo meritato perché se lo merita di questa rinascita se inizi a cedere milenkovich è dura sostituirlo vi ripeto il problema di cedere milenkovich e pezzella non è neanche tanto nel nel valore dei singoli giocatori che pure specialmente per milenkovich è molto buono ma è che poi devi andare a trovare dei sostituti e non so se visti gli ultimi due mercati che sono stati fatti se resta sotto di esse se ci sia tanto da fare i salti di gioia detta onestamente discorso chiesa chiesa ragazzi e niente adesso è venuto fuori la polemica perché ha zittito i chi lo sa chi ha zittito sei tifosi la tribuna molti si sono risentiti hanno detto son gesti che non si fanno un ragazzino dovrebbe portare rispetto queste sono cose bagatellari sono cose bagatellari può zittire può 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 fare capito il il balletto in campo può fare una scorreggia in porta non sono queste le cose da valutare cose da valutare è che un giocatore che devi cedere il prima possibile perché è finito a mio avviso il suo ciclo a firenze ha bisogno lui di andar via per proseguire la sua carriera bene abbiamo bisogno noi di cederlo per superare il periodo chiesa come faro tra virgolette di una fiorentina che è a livelli piuttosto bassi possibilmente abbiamo bisogno di fare entrare del cash o comunque avere in cambio delle buone contropartite a me piacerebbe vi ripeto per l'anesima volta intavolare una trattativa con l'inter che possa includere una in golan o che possa includere anche un sensi magari anche se dubito che l'inter se ne voglia privare e quindi chiesa il discorso è presto fatto ed è quello di sempre su belotti c'è ancora sta notizia che esce dell'interessamento della fiorentina per belotti io non ci non è una pista a cui non credo perché comunque ve l'abbiamo detto anche col buon andreini nella live a tre che abbiamo fatto con pucci quando vedi affiancare dei profili da 40 milioni 50 milioni alla fiorentina e sono cose che praticamente ad oggi è difficile farle arrivare oltretutto sarebbero soldi buttati perché tu rischi di spendere l'intero budget su belotti oltretutto in un reparto come quello dell'attacco dove a mio avviso non c'è neanche bisogno di intervenire perché ad oggi se fosse per me ok andrei avanti riscatterei cutrone ok e andrei avanti con cutrone vlaovic e quame perché non li hai provati a sufficienza perché quando hanno giocato assieme a due punte hanno sempre fatto bene e hai portato a casa anche dei buoni risultati non spenderei una lira non spenderei una lira su un attaccante anzi forse per me penserei anche a mandare in prestito quame magari in un club di premier league tipo non lo so un crystal palace una squadra del genere in prestito va bene con un diritto di riscatto magari alto e l'anno prossimo darei fiducia alla coppia d'attacco cutrone vlaovic con sottile stile alexi sanchez magari con un iuric in panchina che sono sicuro che un sottile te lo valorizzerebbe come ha fatto per esempio con un pessina stesso ruolo stessa situazione stessa tipologia simile 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 di giocatore e quindi io proprio già non investirei una lira in attacco anzi lo sfoltirei nel possibile specie se poi giochi con un modulo 352 3421 3412 ok figurati se vado a spendere 50 milioni su un giocatore poi il cui arrivo a firenze io non ci credo per questioni economiche per questioni di anche volontà del giocatore io penso che belotti sia adatto all'inter quella possa essere la sua dimensione quello quello il suo quello per me il suo destino ok quindi belotti per me 0 bene recap fatto veniamo a lecce fiorentina ma guardate io vi dico che ho delle impressioni buone per stasera finora ho fatto le le impressioni sul cagliari l'ho presa sul verona l'ho presa e ce n'era anche un'altra ma non mi ricordo quale che avevo preso anche quella faccio le mie impressioni di settembre anche sul lecce vi dico che ho buone sensazioni stasera per me si vince stasera me la sento bene stasera per me andiamo a lecce a fare risultato e probabilmente giocheremo col 343 qui adesso iachini sembra voler dare una sorta di continuità dovrebbe ritornare duncan molti danno badel titolare io farei giocare pulgaro onestamente sempre non capisco il senso di far giocare badel dico questo anche perché credo che lecce abbia gli occhi più sulla sfida col genoa e penso che possiamo andare a lecce a chiudere il discorso salvezza oggi ho buone impressioni oggi ho buone impressioni penso che ce la possiamo fare vi ripeto in caponirsi su discorsi tattici purtroppo non ha più senso sapete come io farei giocare la squadra sapete che metterei due punte sapete dove farei giocare chiesa non mi ripeto nemmeno però voglio dire mancano due settimane alla fine del campionato quindi abbiamo capito ormai che purtroppo non c'è tripa per gatti per avere una futuribilità tecnico tattica probabilmente già da adesso quindi seguiamo solo i risultati la resa dei giocatori e speriamo tra due tre settimane di star qui a ragionare su una fiorentina un tantino più razionale e che si possa iniziare soprattutto a giocare delle basi concrete per il futuro un caro salute a stasera